Level Race Costo 120€, genere unisex, destinazione competizione alto livello Il terreno e la pista, ma anche fuori pista, utilizzatore esperto, medio medio esperto Gamma 2010-2011 Le specifiche tecniche parlano di un guanto in pelle multistrato con imbottitura Primaloft e membrana Thinsulate Le nocche ricoperte e protette in ABS Profilo corto del polsino, sistema Kirax di stimolazione dei riflessi nel polsino La misura testata 8.5 e le misure disponibili 6.5 fino a 10 Le conclusioni La versione non customizzata del guanto Race presenta un grado ottimale di comfort Termicità e sensibilità alle dita E' frutto di anni di esperienza sui campi di gara e di contatto con i tecnici più affermati Consigli d'uso, un modello per agonisti, per ottimi sciatori ma anche per medi sciatori Che comunque desiderano un livello di sensibilità nella presa del bastone molto elevato Adatto anche a soggetti in evoluzione quindi che non hanno bisogno di un livello termico estremo Come nel caso delle muffole Grazie 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 Grazie